Vice Presidente del Forum dei Giovani di Roccadaspida, Alessio Mazzaro, noi siamo in piazza 20 settembre perché contrariamente a quelle che erano le aspettative, anche alla luce dell'emergenza coronavirus, i giochi di Santa Simporosa si faranno e si faranno come da tradizione proprio in questa piazza seguendo delle normative particolari. Facciamo il punto della situazione riguardo a questa iniziativa che si terrà il 16 luglio. Assolutamente sì, quest'anno come sappiamo viviamo in un periodo di forte difficoltà. Noi ragazzi da qualche mese a questa parte ci siamo impegnati, abbiamo oltre a sollecitare l'amministrazione comunale, con spirito di gruppo e soprattutto determinazione abbiamo provato a fare in modo che questa tradizione non svanisse. Come dicevo poc'anzi è un periodo storico politico difficile, noi ce la stiamo mettendo tutta, con tutte le linee guida, con tutti i protocolli di sicurezza, in conformità alle vigenti normative, il 16 luglio siamo riusciti a portare avanti questa tradizione, la porteremo avanti. E proprio questa piazza sarà allestita affinché tutti i partecipanti possano svolgere i giochi e le gare al meglio. Raccontiamo un po' come sarà organizzata in quell'occasione Piazza 20 Settembre. Assolutamente sì, come sappiamo dobbiamo naturalmente attenerci alle normative vigenti di contenimento della pandemia. E quindi saranno vietati gli assembramenti. Grazie all'ordinanza del Presidente numero 59 di qualche giorno fa molto probabilmente ci sarà una condizione diversa, riusciremo ad allestire la piazza. Però come sappiamo gli assembramenti sono vietati, sarà molto difficile ma allo stesso tempo resterà appunto nella storia. Io penso che noi ragazzi dobbiamo lottare con tutte le nostre forze e dobbiamo portarle avanti nonostante i limiti e i contingentamenti. Chiunque potrà partecipare ai giochi medievali di Santa Sinforosa basterà scaricare i moduli di iscrizione anche dalle pagine social del Forum dei Giovani. Sì, noi abbiamo rimodulato e rettificato il regolamento rispetto alle organizzazioni degli altri anni. Per essere conformi alle vigenti normative abbiamo pubblicato tutto sulle nostre pagine social. Forum dei Giovani Roccadaspide, la pagina Facebook, troverete il regolamento, potrete tranquillamente scaricare il bando per l'iscrizione. Non ci resta che invitare tutti ad iscriversi ai giochi medievali di Santa Sinforosa e rinnovare l'appuntamento in piazza 20 Settembre. Assolutamente sì, vi aspettiamo il 16 luglio in piazza 20 Settembre a divertirci con i giochi medievali.